buongiorno a tutti buon fine settimana e ben ritrovati sul canale di pippo quarto di tanto in tanto mi capita di dare un'occhiata su questa emittente e mi sono imbattuto nel video di una donna che ho sempre stimato e detto tra noi è anche una bellissima fanciulla la vidi per la prima volta su media shopping ne rimasi folgorato al punto che acquistai il fitness pump che lei pubblicizzava indossava sempre tute aderenti e non vi dico lo spettacolo fossi in lei comunque mi trasferirei in quel di monza brianza perché chi vi sia un seguito decisamente maggiore e poi darebbe a me anche la possibilità di registrarla gil cooper è nata nel kansas il 21 agosto del 1968 dopo essere stata allieva della tisch school of the arts presso la new york university studia alla circle in the square prima di trasferirsi a roma dove si laurea in international business presso l'american university of roma successivamente inizia la sua carriera televisiva partecipando in soli due anni a nove trasmissioni sia per la rai che per mediaset nel 2001 inizia a lavorare come insegnante di fitness per amici il programma di maria de filippi sempre con il ruolo di personal trainer tiene diverse rubriche e conduce diversi spazi sulla tematica del fitness e dello sport in trasmissioni come uno mattina weekend e detto fatto diventando per diversi anni il volto delle televendite per prodotti legati allo sport nelle emittenti home shopping europe media shopping e hse 24 trasmissione questa poi chiusa perché non dava i piccioli ai suoi dipendenti ha lavorato come personal trainer per personaggi come paola barale maria de filippi alessia marcuzzi pamela prati mel baruffo paola perego e wendy windham nel 2023 partecipa al grande fratello venendo eliminata però il 13 novembre per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che dal suo primo matrimonio gil cooper ha avuto una figlia di nome veronica nel 2007 si è risposata con alessandro carbone nella chiesa battista di roma in piazza san lorenzo in lucina ragazzuoli belli anche questo video è finito grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento